Questo video riguarda i migliori tre inchiostri stilografici. Il vincitore della qualità è l'Octopus Fluids Inchiostro. 250 ml blu ultremare inchiostro per penna stilografica in pratico flacone di ricarica. Adatto per stilografiche tradizionali o stilografiche con convertitori. Desencrese Elegantes, Fabriques Par la Société de Dresden Octopus Fluids GMBH e Co. KG, per l'amante disponibile anche nell'attraente calamaio da 30 ml. Elevata brillantezza del colore, basso livello di piume e buon comportamento di scorrimento. Scegli il tuo colore preferito dalla nostra ampia gamma di colori. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'inchiostro stilografica. 30 ml nero seppia. Inchiostro per penna stilografica in un flacone visivamente accattivante. Adatto per stilografiche tradizionali o stilografiche con convertitori. Inchiostri eleganti, prodotti dalla Dresden Octopus Fluids GMBH e Co. KG, per il rispetto dell'ambiente, risparmio di risorse e costi, disponibile anche in confezioni da 250 ml. Elevata brillantezza del colore, basso livello di piume e buon comportamento di scorrimento. Scegli il tuo colore preferito dalla nostra ampia gamma di colori. Il vincitore del premio è l'Amazon Basics Cartucce. Con 24 cartucce, questa confezione di ricariche è la soluzione perfetta per non rimanere mai senza inchiostro. Inchiostro dal flusso continuo per un'esperienza impareggiabile. Confezione con 24 cartucce. Acqua di qualità e inchiostro a base di colorante. L'inchiostro nero a base di acqua e colorante è chiaro e deciso, perfetto per scrivere su un foglio bianco. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.